Gentili telespettatori, buona giornata. Ma com'è andata a Mattia Santori alle elezioni a Bologna, dove si presentava come consigliere comunale? Ha avuto un bel record di preferenze. È andato meglio lui del PD. Così, come i pronostici alla vigilia, Bologna rimane al centro-sinistra. Su questo non c'erano dubbi. Addirittura questa roccaforte rossa è rimasta a sinistra con il 62% dei voti, quindi vittoria netta al primo turno, niente ballottaggi. Sapete che per vincere al primo turno ci vuole almeno il 51% dei voti. Lui è andato con il 10% in più, oltre questa soglia. Sono 30 i punti che separano la centro-sinistra dal centro-destra. Infatti, la coalizione guidata dal centro-destra si ferma al 29%. Il candidato Dem Matteo Lepore varcherà oggi l'ingresso di Palazzo d'Accursio come nuovo sindaco del capoluogo Emiliano. Così l'ex assessore alla cultura della giunta Merola ha dovuto lottare parecchio per conquistare il trono. Beh, intanto vediamo che cosa poi è successo. Soprattutto, vabbè, la sua candidatura è andata avanti senza intoppi. Il suo principale competitor era Fabio Battistini. Mentre nel centro-destra chi ha avuto la meglio è stato Fratelli d'Italia. Ma ad aiutare il PD e anche l'esponente delle sardine Mattia Santori, che a metà dello spoglio risultava essere il candidato consigliere più votato, con oltre mille preferenze nelle file del PD, dobbiamo anche parlare di Fratelli d'Italia che è il primo partito del centro-destra con il 12,5%. Quattro punti in più di distacco sulla Lega che ha avuto il 7,8%. Mentre poi abbiamo assistito al crollo di Forza Italia con il 3,7%. Si modificheranno ovviamente gli equilibri del centro-destra a Bologna. Nella serata poi di ieri Matteo Salvini ha ammesso che nelle grandi città si è perso per demeriti nostri, dice. Come Lega abbiamo più sindaci di quelli che avevamo ieri. E la lezione è che il centro-destra unito vince, ma deve essere unito sul serio. Poi arriva al commento di Battistini che preserva dalle critiche i partiti, pur aumentando e ammettendo che siamo arrivati tardi, ma non mi sono sentito isolato. Si poteva e si doveva lavorare con tempistiche diverse. Ma non è questione di tempistiche, di arrivare tardi. Bologna è sempre stata rossa e ha tenuto. Non è questione del nome del candidato, di quando è arrivato, prima, dopo, durante. Non è propriamente così. Però ognuno cerca delle giustificazioni. Eh, sono arrivato tardi, se arrivavo prima vincevo. Sì, vabbè. L'imprenditore ha comunque assicurato che resterà a fare opposizione in consiglio comunale. Anche per il carappogruppo di Fratelli d'Italia, in regione Marco Lisei Battistini dice ha fatto un'ottima campagna elettorale, ma pagato lo scotto di una scelta tardiva da parte del centrodestra. Vabbè. Insomma, molti si giustificano dicendo che sono arrivati tardi, mi conoscevano poco. Nessuno dice non mi hanno votato perché preferivano un altro. No, è che sono arrivato tardi, conoscevano poco. Eh, vabbè. Insomma. Intanto, il segretario del PD provinciale Luigi Tosini rivendica di aver costruito qui la coalizione più larga d'Italia, che include il Movimento 5 Stelle addirittura al 3,44%, facendo nascere, secondo lui, un nuovo ulivo, con un PD al 36,5% dei consensi. Enrico Letta è rimasto entusiasta di quello che è successo a Bologna. Abbiamo ottenuto una grande vittoria che ci dà una responsabilità storica. È proprio all'ex premier e a Mario Draghi che il neosindaco Matteo Lepore rivolge il primo appello post-elettorale. Dice abbiamo bisogno che il PD metta insieme i sindaci progressisti democratici, non ci possiamo più rinchiudere nelle ZTL. Abbiamo una grande occasione, sono convinto che da Bologna, dice, Milano-Napoli partirà la riscossa per le prossime politiche. Da Palazzo D'Accurso al Palazzo Chigi, con Bologna, fucina di un'ampia coalizione progressista. Questo è il progetto, almeno nelle intenzioni, al centro-destra. Il compito di rimettere assieme i pezzi e frenare l'ondata rossa. Beh, addirittura adesso parliamo dell'ondata rossa dove il PD è crollato a Roma, per esempio. Diciamo che le elezioni comunali hanno visto la tenuta del PD, il crollo della Lega, il buon risultato di Giorgia Meloni. Forza Italia che in alcuni casi ha avuto un grande risultato, come in Calabria. Abbiamo visto il Movimento 5 Stelle verso la sparizione, come in ogni regionale che abbiamo visto e in ogni comunale, questo partito è intorno al 5%. A livello nazionale al 17%. Come mai? Voto di scambio, reddito di cittadinanza. Alle elezioni nazionali indico i 5 Stelle perché sono i miei datori di lavoro, mentre alle elezioni comunali io voto veramente per il sindaco che mi interessa, quello che penso che possa mettere a posto la città. questa è la differenza. Quindi il vero Movimento 5 Stelle è quello del 5%, non del 17%. Movimento 5 Stelle che anche alle prossime elezioni avrà questo 17%, più o meno, perché la gente voterà per cercare di avere il reddito di cittadinanza. Anche tanta gente di destra voterà. Voterà 5 Stelle girandosi dall'altra parte, perché voi sapete che nelle priorità delle persone prima viene lo stipendio, i soldi. Quindi per avere questi soldi ogni mese uno cambia anche partito. Ovviamente è così. Bisognerà vedere quando questo reddito di cittadinanza verrà cancellato i grillini che faranno gli elettori. Rimarranno a sinistra o magari andranno a destra o al centro, perché quel 17% ne rimarrà molto poco. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti qui su Teleitalia. Poi siamo su Teleitalia Seconda Rete dove trovate video non solo di politica ma anche di altro. Grazie a tutti e a presto.